È da 2015 che Istat entra nelle aule dell'Università Toscane attraverso un ciclo di seminari sulla statistica ufficiale. L'obiettivo dei seminari è accrescere la conoscenza degli studenti nei confronti della statistica e quindi accrescere anche il loro livello di fiducia nei confronti della stessa. In aule fisiche o virtuali, piene di studenti e studentesse, i ricercatori dell'Istat discutono del processo di produzione dei dati e dei processi di diffusione degli stessi, con una particolare attenzione a criteri di qualità che caratterizzano l'informazione statistica ufficiale. Dall'esperienza in classe emerge forte e chiaro il bisogno da parte dei giovani di disporre di strumenti utili per interpretare il contesto in cui viviamo. E in un contesto come quello attuale che quotidianamente ci propone un diluvio di dati risulta fondamentale la comunicazione nei confronti delle giovani generazioni del ruolo dell'Istat e dell'importanza della statistica ufficiale.